Dopo le polemiche seguite alla convocazione per l'ultima gara del campionato di Serie B, adesso anche la Procura federale della FIGC ha aperto un procedimento nei confronti del calciatore del Genoa Manolo Portanova, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. La Procura ha già trasmesso la richiesta degli atti processuali al Tribunale di Siena per valutare ogni eventuale iniziativa da parte della giustizia sportiva. Nelle scorse ore il nuovo allenatore dei Rosso Blu, Alberto Gilardino, in accordo con la società, aveva deciso di inserire il centrocampista offensivo nell'elenco dei convocati per la partita casalinga contro il Sud Tirol, poi il giocatore era stato mandato in tribuna. In ogni caso il club ligure ha optato per la linea della presunzione d'innocenza fino al terzo grado di giudizio. Manolo, classe 2000, figlio dell'ex capitano del Siena Daniele Portanova, martedì scorso è stato condannato in primo grado con rito abbreviato per una violenza sessuale avvenuta nei confronti di una studentessa ventunenne in un appartamento del centro storico della città del Palio la notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. La studentessa a fine luglio era stata sentita per ben sette ore in incidente probatorio semiprotetto ed aveva raccontato di aver subito botte, insulti, sputi e accanimento durante la violenza sessuale. A settembre inoltre la giovane vittima aveva rifiutato un'offerta risarcitoria presentata dalla legale di Portanova. L'avvocato entro il prossimo mese e mezzo potrà conoscere le motivazioni della sentenza e presentare il ricorso in appello.